Il rabino ha dato a mamma un elenco di tutto quello che si deve fare per la shiva. E noi che cosa dovremmo fare? Non guardarci allo specchio per sette giorni? Ma non posso farmi la barba senza guardarmi allo specchio? Non ti puoi neanche fare la barba. Non posso mancare per sette giorni dall'ufficio. Trenta.